Il terremoto in Albania Non smette di tremare l'Albania dopo la forte scossa di terremoto che ha sconvolto il paese delle due aquile. Il bilancio è finora di 18 morti di circa 600 feriti. Durazzo la città più colpita. La città albanese si è risvegliata tra le macerie con numeri terribili a cui si aggiungono quelli dei dispersi. Al momento non ci sarebbero italiani coinvolti. Nel pomeriggio un'altra forte scossa però di magnitudo 5 ha messo ancora paura alla popolazione. Nel frattempo si è attivata la macchina della solidarietà anche dalla nostra regione tradizionalmente vicina al popolo albanese. La protezione civile italiana sta inviando una cinquantina di vigili del fuoco specializzati nello scavo sotto le macerie. Abbiamo messo in preallarme il nostro sistema di protezione civile regionale collegato alla sanità per la predisposizione di circa 250 posti letto in ospedali e strutture. Con specifico riferimento ai traumi e alle trasfusioni di sangue ha fatto sapere il governatore della Puglia Michele Emiliano. Abbiamo anche messo in preallarme i nostri centri trasfusionali per la trasmissione del sangue in Albania. La Puglia ha poi concluso per questioni di vicinanza oltre che di reciproca e profonda conoscenza con tutte le istituzioni albanesi. È stata impegnata direttamente dalla protezione civile nazionale. Noi siamo a disposizione per portare ai nostri fratelli e sorelle tutto l'aiuto necessario. E lo avete sentito anche nel nostro servizio. La rete di soccorsi si è attivata anche da Bari. I cento volontari della protezione civile partiranno dal porto alle 22 per Durazzo dove potranno prestare assistenza a 250 persone. Si fermeranno lì per cinque giorni offrendo supporto alla popolazione. Partiranno a bordo del traghetto Adria Ferris. Insieme a loro si imbarcheranno 30 vigili del fuoco di Bari e Potenza e 28 volontari delle misericordie. Si uniranno ai soccorsi della Caritas albanese per dare assistenza a feriti e sfollati. La necessità nasce dal fatto che gli ospedali albanesi non erano preparati a gestire un'emergenza di questa portata. E voltiamo decisamente pagina. Locazioni passive del comune di Bari. Ma quanto spendono da palazzo di città per il fitto dei locali che ospitano gli assessorati? E quanto si potrebbe in realtà risparmiare? Ce ne parla Serena Russo. Locazioni passive da tempo dal comune di Bari parlano di ottimizzazione degli spazi, soprattutto in vista di un risparmio economico. Come vanno le cose? Lei su questo argomento ha presentato anche un'interrogazione. Lo ha detto lei in maniera precisa. Loro parlano, parlano e parlano, però di atti concreti ne abbiamo visti ancora pochi. In un periodo di tremende ristrettezze economiche, come quello che sta vivendo la nostra città, con gente che non ha la possibilità di chiedere il contributo alloggetivo, famiglie intere che sono nella più totale disperazione, continuare a spendere centinaia di migliaia di euro per locazioni passive è una cosa che io ritengo assolutamente impensabile e illogica. Non sono pochi i locali che il comune di Bari ha infitto e che ad oggi ospitano diverse ripartizioni, anche aperte al pubblico. Sono le locazioni passive per cui da palazzo di città si spendono ogni anno in gentisomme e che a ben guardare potrebbero forse essere risparmiate. Non è un caso che già nel primo mandato de caro tra gli obiettivi c'era appunto quello dell'ottimizzazione delle sedi degli assessorati. Giorni fa l'interrogazione sul punto del consigliere della Lega Fabio Romito, secondo cui gli sprechi ci sono e non sono neanche pochi. Noi oggi abbiamo girato le sue segnalazioni all'assessore comunale al patrimonio Vito Lacoppola. Assessore, da tempo si parla di razionalizzazione e quindi ottimizzazione delle locazioni passive del comune di Bari, ma sembra che nulla si muova. È uno degli obiettivi di mandato di questa amministrazione e non le nascondo che abbiamo già attivato, io personalmente ho attivato i canali istituzionali con l'Agenzia del Demanio, con il suo direttore regionale per avere a breve un elenco di immobili, di interesse pubblico che o con il federalismo demaniale, cosiddetto demaniale o quello culturale, possano pervenirci, entrare nel patrimonio comunale per poter essere utilizzati come allocazione degli uffici pubblici e quindi con un risparmio, un taglio alle ingenti spese di locazione passiva. Ad oggi, assessore, tutti i locali che ospitano ripartizioni del comune di Bari sono muniti di agibilità? Questo è un dato tecnico specifico che dovremmo rivolgere direttamente all'urbanistica, al dirigente del settore. Ci sono altre ripartizioni che appaiono, faccio un esempio su tutti, la ripartizione lavori pubblici in via Giulio Petroni che sembrano delle sedi decisamente sovradimensionate con diverse stanze vuote. Torno a dire sì, abbiamo questa necessità di accorpare e razionalizzare le ripartizioni per evitare che gli utenti debbano girare per la città per trovare risposta alle loro istanze, alle loro esigenze. Il Consiglio regionale pugliese ha approvato a maggioranza con 27 voti a favore e 9 contrari il rendiconto generale della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2018 e il documento di economia e finanza regionale 2020-2022. Il provvedimento conferma che il finanziamento del servizio sanitario regionale assorbe circa il 79% delle risorse. In sede di bilancio pre-consultivo consolidato alla Regione Puglia ha assicurato l'equilibrio economico per l'esercizio 2018 con 50 milioni di euro per specifiche spese a carico del bilancio autonomo. Le risorse disponibili per le altre funzioni ammontano 119 milioni di euro mentre la spesa per il personale in consistente diminuzione rispetto all'anno precedente è pare a 143 milioni di euro. Recipite le osservazioni formulate dalla Corte dei Conti in sede di giudizio di parifica con l'inserimento dell'importo di 239.584 euro nell'avanzo di amministrazione destinato al finanziamento delle spese correnti e al rimborso dei prestiti. Intendiamo dare alla Puglia una proposta politica di qualità fatta non solo di nomi, candidature e liste. Così Erio Congedo, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia ha presentato la conferenza programmatica che si terrà il prossimo sabato a Bari con il gruppo europeo dei conservatori e riformisti. L'occasione è stata buona per parlare anche della scelta del candidato presidente del centrodestra. Un nodo non ancora sciolto, il tavolo nazionale ci porta a pensare che ci sarà una coalizione unita. Giunto invece Ignazio Zullo, il totonomi penso sia naturale per una coalizione che si forma e si amalgama anche, ma che deve di tutto, prima di tutto fondare il nome su un programma che sia appetibile. La Segreteria Nazionale USB ha proclamato uno sciopero di 24 ore dalla mezzanotte alle 23.59 di venerdì 29 novembre per ragioni di natura politica riguardante tutto il personale di Ferrovie del Sud-Est. A comunicarlo in una nota è la stessa società operante nel campo dei trasporti ferroviari e automobilistici del gruppo Ferrovie dello Stato italiane. Treni e autobus potranno subire cancellazioni o variazioni, si legge nella nota. salvaguardate le fasce orarie di garanzia 5.8 e 12.30-15.30. Il venerdì all'orizzonte però potrebbe non essere così nero. In occasione del precedente sciopero aziendale del 14 maggio 2019 proclamato dalla stessa sigla sindacale, scritto alla fine della nota, si è registrata un'adesione del personale di FSE dello 0%. E si chiama Viaggio nell'abisso, il libro in cui Megande 2, vittima di abusi, ripercorre il suo percorso di rinascita. Sentiamo. Una storia di rinascita e di coraggio dedicata a tutte quelle donne che come lei sono state vittime di abusi e che in alcuni casi non ce l'hanno fatta. Ma è anche un percorso terapeutico, quello di Megande 2, che nel libro Viaggio nell'abisso, sfogo decolorato, ripercorre quegli attimi di violenza lo scorso febbraio e ha anche il coraggio di denunciare il suo aggressore postando su Instagram la foto del proprio volto tumefatto. E se le ferite del corpo guariscono, quelle dell'anima continuano a far male. Ma va sempre meglio, spiega Megande, che il sorriso non lo ha certo perso. Io sto vivendo la mia rinascita pensando positivamente, nel senso che non voglio che questo episodio trascina, si dice trascina, la mia vita. Voglio andare, voglio ricominciare tutto, rinascere e accompagnare anche altre donne a trovare il coraggio, la forza di andare avanti perché c'è la vita davanti a noi. Dobbiamo sempre continuare a vivere, non esistere, però vivere davvero. Ma Megande non è l'unica autrice del libro. Insieme a lei, Crescenza Caradonna, che ne ha curato la stesura e che con le sue poesie ripercorre squarci di vita rivolti alla riconquista della libertà. Mi sono venute nelle mie mani il manoscritto della Megande, l'ho riguardato, l'ho aggiustato ed è nato questo bel libro. Che sensazioni ha provato? Che cosa lascia questo libro a chi lo legge? La consapevolezza di poter fare qualcosa contro la violenza di genere, di denunciare sempre, comunque, perché c'è sempre uno spiraglio positivo, si può uscire, si può rinascere. Infine, il fotografo Luciano Anelli anima insieme alle altre due autrici di questo gioiellino che a giorni sarà presentato ufficialmente. Luciano, invece il tuo contributo qual è al libro? Allora, io Megane la conosco da prima di questo brutto evento e quando l'ho conosciuta, quando l'ho incontrata dopo, ho detto sfogati, sfogati. Lei mi portò un primo scritto a mano, lo feci leggere anche in pubblico e disse scrivi, scrivi quanto più puoi e vediamo poi di costruire questo libro, che deve essere un messaggio anche in positivo per come si esce fuori da queste realtà. Un calcio alla violenza, CGL Cisle Will, insieme in campo in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Una partita di pallone per dare un calcio alla violenza e in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, CGL Cisle Will, unitamente alle associazioni del territorio che da sempre si battono sul tema, hanno organizzato un torneo di minicalcio, obiettivo dell'iniziativa che ha animato il Palamartino di Bari, stimolare la partecipazione e la riflessione sul tema della violenza sulle donne attraverso la partecipazione ad un evento sportivo che ha unito cittadinanza, istituzioni, sindacati e associazioni per andare oltre le discriminazioni di genere e sempre più agli onori della cronaca. 96 feniminicidi dall'inizio dell'anno, 142 registrati nel 2018 e ancora tante le discriminazioni non solo nel mondo del lavoro, ma anche nel mondo dello sport. Ed è proprio tutte le violenze che le donne sono costrette a subire, sia fisiche che psicologiche, che CGL Cisle Will hanno voluto dare un calcio per fare gol e annientare questo grande male. I diritti delle donne devono andare avanti così come va avanti il pallone. È giocosa questa partita, non ci sono antagonismi veri e propri. Si tratta di dare tutto il calcio allo stesso pallone che è la violenza per riuscire a fare gol, ossia di annientare il pallone. Il mondo del lavoro è stato sempre e sempre sarà contro le discriminazioni nei confronti delle donne e contro qualunque atteggiamento di prevaricazione e di violenza e noi ovviamente oggi vogliamo lanciare un segnale che la donna al centro della società farà crescere sicuramente questa società. Corre stringersi a questo grido di dolore di molte donne e di molte famiglie per dire appunto no alla violenza contro le donne. Oggi lo facciamo con un simbolo che è lo sport, che di solito appunto unisce, ma che in questo campo divide anche perché molte sono le discriminazioni che le donne subiscono in campo sportivo. E noi ci fermiamo per qualche istante, ma torniamo con altre notizie subito dopo la pubblicità. Rieccoci in diretta con l'edizione serale del nostro telegiornale. Ripartiamo subito dai petali del San Nicola via altre coperture. Su 26 ne sono rimaste solo 6 in corrispondenza della Tribuna Ovest. In base a un sopraluogo effettuato negli scorsi giorni da tecnici e autorità competenti si è ritenuto opportuno levare i teli pericolanti che non garantivano condizioni di stabilità per evitare che si potessero strappare con il pubblico presente. L'ultimo petalo, quello centrale della Curva Nord, è stato portato via qualche giorno fa a causa del forte vento, condizione che potrebbe ripetersi e che ha reso necessaria la rimozione dei teli pericolanti. Lo stato dei 6 rimasti sarà verificato nei prossimi giorni. La ditta che al lavoro sta controllando petalo per petalo. Due di quelli ancora in piedi si trovano in corrispondenza della Tribuna Stampa che per regolamento di Lega di Serie C deve essere coperta. Si sta valutando se spostarla all'anello inferiore o se prevedere delle coperture provvisorie anche su altri settori del San Nicola. E parliamo ora della Statale 16. Tutte le novità nell'intervista al Sindaco di Bari, Antonio De Caro. Come è andato l'incontro in Anas questa mattina, Sindaco? L'incontro è stato positivo, un incontro tecnico prima della chiusura, anche a maggioranza della conferenza dei servizi, per la realizzazione della variante della Statale 16 all'altezza di San Giorgio. C'è il Comune di Trigiano che ha bisogno di fare degli approfondimenti dal punto di vista urbanistico perché vuole spostare delle aree che sono limitrofe alla nuova viabilità. Il Comune di Bari e il Comune di Mola hanno chiesto all'Anas di fare già una progettazione di come sarà la nuova funzione della vecchia strada. La vecchia 16 diventerà una strada di rango metropolitano con marciapiedi, corsie preferenziali, illuminazione, soprattutto nella zona di San Giorgio. Il Comune di Necattolo era assente, però abbiamo lasciato la possibilità a tutti e all'unanimità per il Comune di Necattolo di scegliere all'interno del corridoio tra il centro abitato e le urbanizzazioni che ci sono vicino a Torriammare di scegliere qual è la posizione migliore per il Comune così come abbiamo condiviso la richiesta del Comune di Necattolo di realizzare anche un'asta di collegamento tra la nuova Statale 16 e la zona industriale che sarà una strada che servirà sicuramente a Necattolo ma servirà anche a un pezzo del territorio dell'area metropolitana di Bari. Da alcuni giorni si era reso irreperibile e nei suoi confronti era stato formalizzato un provvedimento di latitanza per reati connessi alla detenzione legale di armi, spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione. Nelle scorse ore però è stato rintracciato dai militari della Guardia di Finanza San Girolamo e i suoi polsi sono scattate le manette. Protagonista della vicenda, un pregiudicato barese di 29 anni originario del Borgo Antico, intercettato dalle fiamme gialle in casa di alcuni parenti. All'arrivo dei Baschi Verdi il fuggitivo ha tentato di sottrarsi nuovamente alla cattura calandosi da un balcone ad attenderlo in strada però c'erano altri finanzieri che in previsione di un tentativo di fuga avevano circondato l'edificio. Il 29enne, già tratto in arresto insieme a numerosi altri indagati nell'ambito dell'operazione denominata Holy Drug portata a termine nel dicembre 2018, è stato rinchiuso nel carcere di Bari. E tre persone invece sono state arrestate in flagranza di reato e una denuncia a piede libero per furto aggravato, ricettazione e possesso di documenti di identificazione falsi. È il risultato dell'operazione dei carabinieri di Monopoli che ha consentito di sgominare una banda specializzata nei furti di appartamento composta da quattro cittadini albanesi tutti con precedenti per reati predatori. I militari sono stati allertati da un cittadino di Turi il quale facendo rientro a casa si è accorto che la sua abitazione era stata messa a soccuadro da alcuni malfattori che avevano portato via un televisore tre orologi e diversi monili in oro. Le tracce lasciate sul posto dei banditi hanno portato i carabinieri ad un casolare abbandonato di Mola privo di insegni e apparentemente disabitato. Il blitz, messo in atto dai militari in piena notte ha accolto i responsabili del furto con le mani ancora nel bottino. E torniamo a parlare del terremoto e della scossa di terremoto in Albania. Questa notte ha colpito la capitale Durazzo e Tumana. intanto la rete di soccorsi si è attivata anche da Bari perché la terra intanto continua a tremare. Non smette di tremare l'Albania dopo la forte scossa di terremoto che ha sconvolto il paese delle due aquile. Il bilancio è finora di 18 morti di circa 600 feriti. Durazzo, la città più colpita, buttata giù dal letto la prima volta la scorsa notte attorno alle 3 da una scossa di magnitudo 6,5 avvertita anche in Puglia. La città albanese si è risvegliata tra le macerie con numeri terribili a cui si aggiungono quelli dei dispersi. Al momento non ci sarebbero italiani coinvolti. Nel pomeriggio un'altra forte scossa però di magnitudo 5 ha messo ancora paura alla popolazione. Nel frattempo si è attivata la macchina della solidarietà anche dalla nostra regione tradizionalmente vicina al popolo albanese. La protezione civile italiana sta inviando una cinquantina di vigili del fuoco specializzati nello scavo sotto le macerie. Abbiamo messo in preallarme il nostro sistema di protezione civile regionale collegato alla sanità per la predisposizione di circa 250 posti letto in ospedali e strutture con specifico riferimento ai traumi e alle trasfusioni di sangue ha fatto sapere il governatore della Puglia Michele Emiliano. Abbiamo anche messo in preallarme i nostri centri trasfusionali per la trasmissione del sangue in Albania. La Puglia ha poi concluso per questioni di vicinanza oltre che di reciproca e profonda conoscenza con tutte le istituzioni albanesi è stata impegnata direttamente dalla protezione civile nazionale Noi siamo a disposizione per portare ai nostri fratelli e sorelle tutto l'aiuto necessario. E da quando sono stati eliminati i cassonetti la situazione è degenerata. Via Van Westerhout al quartiere San Girolamo ogni giorno viene riempita di rifiuti da alcuni cittadini civili. A denunciarlo è un residente della zona che con una selezione fotografica sulla pagina Facebook del sindaco De Caro rende tangibile una situazione di degrado che sembra ripetersi quotidianamente da quando è in vigore la raccolta porta a porta. Chiunque viene lascia il proprio bustone dell'immondizia fuori dalle nostre ville si legge nel post i rifiuti sono presi d'assalto da animali e insetti viviamo una situazione di degrado poi l'appello al primo cittadino la prego di ottimizzare i tempi e i modi di gestione del conferimento oltre a prendere provvedimenti per chi utilizza questa strada come una discarica. Grande festa per la riapertura del teatro Piccini dalle prime ore di questo pomeriggio tanti i cittadini baresi in fila per ritirare il proprio biglietto di ingresso gratuito per gli spettacoli in programma il 5 e il 6 dicembre. Una lunga fila di persone occupa Corso Vittorio Emanuele prosegue per via Benedetto Cairoli fino ad arrivare all'angolo con via Niccolò Piccini dalle prime ore del pomeriggio grandi e piccoli fremono spettando l'apertura del botteghino del teatro comunale barese mancano pochi giorni alla riapertura del teatro Niccolò Piccini e per l'occasione l'amministrazione comunale ha organizzato una grande festa dedicata a tutta la città nelle giornate del 5 e del 6 dicembre. Grande sorpresa per i baresi otto spettacoli tra frammenti di pièce teatrali e concerti saranno totalmente gratuiti. Poco più di 700 i posti disponibili per ogni spettacolo alle 18 la biglietteria del teatro in Corso Vittorio Emanuele ha aperto i battenti al pubblico in meno di mezz'ora i 100 titoli di ingresso stampati erano già tutti finiti. una grande emozione un grande ritorno al teatro perché aveva già avuto l'opportunità di assistere agli spettacoli del teatro Politeama ma anche tanta la curiosità dei più giovani che aspettano con pazienza di vedere magari per la prima volta la storica sala del più antico teatro di Bari. Quanto tempo in fila signora? Un'ora e mezza. Quali ricordi ha del Piccini che è stato chiuso nove anni fa? Sì, fantastici ma risalgono alla mia adolescenza quando si veniva a fare anche incontri culturali. Noi siamo giovani non l'abbiamo visto aperto sia stata solo un'occasione dieci anni fa però è la prima volta per noi chiaramente. Qual è lo spettacolo scelto tra gli otto? Natale a Casa Cupiello abbiamo scelto e speriamo di trovare i biglietti ovviamente. Sapevo che sarebbe stata lunga però ne vale la pena. Qual è lo spettacolo scelto tra gli otto? Natale in Casa Cupiello che ho già visto altre volte ma che mi fa piacere ancora rivedere. Avrei voluto il concerto inaugurale però mi dicono che non è possibile perché non è ancora disponibile. Sceglierò un altro concerto. Io Natale di Casa Cupiello Una pagina della storia della nostra città che si riapre come afferma il sindaco Antonio De Caro mentre consegne i primi biglietti messi a disposizione sarà la grande festa dei baresi. Ci aspettavamo molto interesse c'era fermento però non in maniera così forte però pian piano sistemeremo. Sarà una festa dei baresi avremo un red carpet che permetterà ai baresi di attraversarlo e di entrare all'interno del teatro lo facciamo il 5 e 6 sono i giorni in cui buonasera in cui come dire la comunità si sente si stringe attorno al Santo Patrono ci viene voglia di stare insieme di uscire. E per chi non lo avesse già fatto sarà possibile ritirare il proprio biglietto per lo spettacolo scelto presso il botteghino del teatro fino a mercoledì 4 dicembre tutti i giorni esclusi sabato e domenica dalle ore 18 alle ore 20 ciascun cittadino potrà ritirare massimo due biglietti. E parliamo di un altro teatro il teatro Petruzzelli colpito dal Black Friday la fondazione infatti ha pensato di proporre tre giorni dedicati a vantaggiose promozioni disponibili al botteghino del teatro ma anche online nei punti vendita Viva Ticket venerdì 29 sabato 30 domenica 1 dicembre quindi i baresi potranno suffruire di uno sconto del 50% sulla sottoscrizione di abbonamenti in platea e palchi di primo e secondo ordine al turno D della stagione d'opera e balletto 2020 sconto del 50% poi anche sull'acquisto di biglietti di platea e palchi di primo e secondo ordine per lo spettacolo in programma il 25 dicembre alle 19 dell'opera La Bohem di Giacomo Puccini per la regia di Ugo Deana e per questa edizione è davvero tutto ulteriori aggiornamenti sul nostro sito www.telebari.it l'informazione su Telebari torna più tardi grazie per averci seguito il meteo è offerto da sgservicesud.it Amici Trebi Meteo benvenuti a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di mercoledì che purtroppo vedrà un nuovo sistema nuvoloso atlantico avvicinarsi all'Italia porterà precipitazioni soprattutto al nord e sul versante tirrenico controlliamo la nuvolosità prevista sul nostro paese ecco arrivare queste nuove nuvole nord e regioni tirreniche saranno le zone maggiormente interessate ma in giornata poi anche il medio adriatico vedrà arrivare della nuvolosità e come precipitazioni piogge piuttosto diffuse torneranno a interessare le regioni settentrionali da prima al nord ovest ma in estensione poi anche al nord est con precipitazioni per lo più di breve durata perturbazioni davvero di passaggio ma localmente piogge anche intense ci attende quindi un mercoledì ancora una volta di mal tempo al nord con queste precipitazioni che attraversano tutte le regioni settentrionali da ovest a est e poi netto peggioramento anche su versante tirrenico compresa anche l'Umbria e fino ad arrivare alla Campania poi verso sera anche il medio adriatico vedrà un peggioramento del tempo meglio al sud dove ne è complesso la situazione rimarrà tranquilla con questo è tutto ma per rimanere aggiornati viste queste nuove piogge scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo il meteo è offerto da sgservicesud.it per rimanere aggiornati per rimanere aggiornati per rimanere aggiornati